Se ti senti stanca o stanco, se continui a pensare che la vita sia stata ingiusta con te, che chissà come mai lui o lei hanno detto quella cattiveria nei tuoi confronti, e quello che ancora ti manca è proprio un passaggio di coscienza, è come se fosse un gradino di conoscenza per applicare degli nuovi strumenti dentro di te. Attraverso il percorso scopri, nutri il tuo organismo in maniera naturale, andremo a conoscere quelli che sono gli elementi primordiali dell'essere umano. Ognuno di noi appartiene a un elemento primordiale ben specifico. Andremo a vedere quale ciascuno di noi appartiene, come possiamo andarlo a nutrire e a equilibrarlo. Spesso le energie all'interno del nostro organismo non sono equilibrate per condizionamenti esterni o ereditati, oppure per magari una situazione che non sappiamo come fare e non abbiamo gli strumenti per poterla cambiare. Quindi cosa possiamo andare a fare? Delle piccole, proprio applicare delle piccole conoscenze che ci vengono tramandate dalle conoscenze della medicina tradizionale cinese. Una volta che noi andremo a conoscere qual è il nostro elemento primordiale, andremo a nutrirci, grazie proprio a delle ricette semplici che potremo applicare nella nostra cucina quotidiana, dei piccoli, semplici strumenti, indicazioni per andare a equilibrare il nostro organismo in modo naturale. Ti lascio qui sotto in descrizione il link per scoprire maggiori informazioni in questo grande percorso magico dei colori e degli elementi primordiali dell'essere umano e come puoi andare, grazie a queste informazioni, a nutrire il tuo organismo in modo naturale e equilibrato con le leggi universali. A presto, Elisa!